Arrestati in fragranza di reato, due giovani ebolitani, un 18enne ed un 17enne, presi mentre preparavano numerose barrette di hashish dal peso complessivo di 200 grammi. Arresti domiciliari per il maggiorenne, mentre per il minore è stato disposto l'accompagnamento presso il centro di prima accoglienza di Salerno in attesa dell'udienza di convalida. Un altro giovane ebolitano, un 19enne, è stato arrestato in fragranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane posto ai domiciliari, durante un posto di blocco, veniva trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish suddiviso in dosi. Dopo una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di altri 300 grammi della stessa sostanza e una somma in contanti di 450 euro. Sempre in fragranza di reato, arrestato un romeno, 32enne, residente ad Eboli, trovato alla guida di un'auto in violazione dei domiciliari a chi ora sottoposto, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento di provenienza furtiva, sottratti poco prima ad alcuni negozi del centro commerciale Le Bolle ad Eboli. La refurtiva veniva sequestrata e poi riconsegnata agli aventi diritto, mentre l'arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Salerno a Forni. Infine, a conclusione del concerto di Alessandra Moroso, venivano bloccati e denunciati cinque venditori abusivi di bevande provenienti dal napoletano. Tutta la merce è stata sequestrata. Sono state poi avviate, in accordo con gli enti locali, le procedure per l'assegnazione delle bevande ad associazioni locali che si occupano di beneficenza e sostentamento dei poveri. Per i venditori ambulanti verranno richieste le idonee misure di pubblica sicurezza del divieto di avvicinamento ai luoghi di pubblico spettacolo e saranno combinate le sanzioni amministrative previste.